Siamo a Taranto, è notte, ci troviamo dinnanzi al mostro Arcelor Mittal Ilva, è l'orario peggiore in cui il grande mostro, il mostro assassino, vomita di tutto di più. Ma la rabbia è ancora maggiore con riferimento alla decisione del Tribunale del Riesame che ha consentito la facoltà d'uso ad Afo 2, ad Alto Forno 2. Ricordiamo infatti che sia la Procura sia successivamente il Tribunale avevano disposto il sequestro e vi era appunto il provvedimento di spegnimento che tecnicamente, materialmente si sarebbe realizzato tra il 7 e il 10 di ottobre. Erano già intervenute le procedure diciamo burocratiche, tecniche per lo spegnimento per poi arrivare al 10, momento proprio materiale dello spegnimento e di questo si stava occupando l'ingegner Valenzano. Ora il Tribunale del Riesame su istanza da parte dei commissari di Ilva in AS si erano opposti e avevano chiesto la facoltà d'uso di Afo 2 che è stata concessa. Ecco l'assurdità, è stata concessa e il Tribunale del Riesame ha anche detto che entro 85 giorni dovranno essere realizzate quelle condizioni soddisfatti quei requisiti di sicurezza che erano stati chiesti dal PM nel lontano 2015 allorquando vi fu il sequestro a seguito della morte di Morricella, dell'operaio Morricella per una gettata di ghisa. Ricordiamo poi che quel provvedimento del 2015 di sequestro fu bloccato in buona sostanza, fu cassato in parole povere dal decreto Salva Ilva di Renzi. Questa è la storia. Ho il massimo rispetto del Tribunale del Riesame, persone competenti, persone oneste al di sopra di ogni sospetto, per l'amor del cielo. Però sono in un paese democratico e sono libero di dire la mia. Ritengo, laureato in giurisprudenza con 110 e lode, che quel provvedimento sia illogico giuridicamente e sia sempre giuridicamente parlando un mostrum iuris. La ritengo una mostruosità giuridica. Per quale motivo? Perché voi non mi potete venire a dire consentiamo l'uso, vi diamo la facoltà d'uso e avete tempo fino a 85 giorni per ripristinare le condizioni di sicurezza. E nel frattempo cosa si fa? Si fa marciare un impianto, un alto forno quando mancano le condizioni di sicurezza? Vi faccio un paragone. Se io cammino e la polizia mi ferma e la mia macchina è soggetta a collaudo e non l'ha superato o non l'ho fatto proprio, la polizia, chi mi ferma, mi impone il fermo dell'auto fino a quando io non farò il collaudo. Quindi io potrò usare la macchina soltanto quando ci sarà il collaudo. Chi mi ferma non mi consente di usare tranquillamente la macchina fino a quando farò il collaudo. Mi dice fermati qui, fai il collaudo, fai i lavori e poi la potrai utilizzare di nuovo. Bene, la stessa cosa non avviene stranissimamente per quanto riguarda AFO2. Perché non si dice AFO2 fermati, fai i lavori e poi ti consentiamo di tornare a produrre, ad operare. No, si consente ad AFO2 di continuare ad operare in mancanza di quei requisiti di sicurezza. E allora mi domando, signori del Tribunale del Riesame, massimo rispetto verso di voi, ma se nel frattempo in questi 85 giorni, dopo 15-20 giorni, succede una disgrazia e abbiamo di nuovo il caso Morricelli. Morricelli, ricordiamolo, l'ho anche detto, morì a causa di una gettata di ghisa bollente. Ma immaginate se queste condizioni ora si ripristinassero, si ripresentassero di nuovo. Cosa direste, signori giudici? Questo vorrei capire. Ecco perché per me è illogico. Perché, lo ripeto, se una macchina senza collaudo non può circolare, perché un AFO2 senza i requisiti può continuare a produrre e viene consentita la facoltà d'uso? Questo vorrei capire. Lo dico con rabbia, con amarezza, con disperazione. La disperazione dei tarantini che vedono questo mostro, che sembra che debba per forza comunque continuare ad ammorbarci e a far morire la collettività ionica, perché si muore all'interno dello stabilimento, attraverso le morti degli operai in fabbrica. Si muore all'esterno, con la popolazione civile dilaniata dall'inquinamento e muoiono, si ammarano gli operai stessi di Il Varselormittal, che buttano il sangue all'interno. Scusate lo sfogo, ma non posso tollerare una cosa del genere. Taranto non deve essere condannata da Il Varselormittal. Signori del Tribunale del Reesame, per me la vostra è stata una valutazione completamente assurda e fuori dalla logica. È un mio parere da laureato in giurisprudenza con 110 e lode. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.